Denise Pipitone non è Olesia Rostova, la ragazza russa avrebbe mentito sul suo rapimento Ma cosa è successo? Leggi i dettagli. Si torna a parlare di Denise Pipitone e della sua sosia russa, Olesia Rostova La ragazza che in televisione ha raccontato di essere stata rapita e affidata a un campo Rom, potrebbe aver mentito Ma è vero? Cosa è successo? Il conduttore russo Roman ha espresso le sue perplessità in merito al caso di Olesia ed è stato chiamato come ospite via remoto nel salotto di Barbara D'Urso Leggi anche, Olesia non è Denise Pipitone, spunta la sorella biologica Anastasia, sono identiche, foto, la teoria di Roman su Olesia Rostova Un conduttore della televisione russa, Roman, è intervenuto in diretta a Domenica Live per parlare del caso Denise Pipitone, Olesia Rostova Proprio lui si professa come l'uomo che ha lanciato la ragazza russa in tv, grazie a un reality composto da 15 giovanissime ragazze disposte a fare qualsiasi cosa per raggiungere la fama Roman ha raccontato che la sosia di Denise Pipitone, Olesia Rostova, nel momento in cui ha sostenuto il provino per entrare a far parte del programma non ha mai parlato dell'orfanotrofio o del suo rapimento Ecco le sue parole, di seguito il video, htps2.com.it-wpcontent-uploads-2021-2004-olesia-Rostova-pimento MP4 ancora, Roman ha aggiunto che secondo lui Olesia stia solamente recitando un copione, di seguito il video, htps2.com.it-wpcontent-uploads-2021-2004-olesia-Roman.MP4 La ragazza russa somigliante a Denise Pipitone e Piera Maggio, comunque, è stata eliminata dal reality show di Roman e nel momento della sua squalifica ha dichiarato E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti